Ok, stavo girando per l'ultramarchi e ho trovato un Quagsire Shiny Io ho paura di toglierli da vita, perciò dovrò catturarlo senza attaccarlo Ok? Ok, un Quagsire Shiny Ora vediamo come è statistica, anche se non me ne frega niente Perché basta che sia Shiny Soprannome, no Cosa vuoi fare? Vediamo le info Ok, Debole in velocità ed è forte in difesa speciale No, è forte in difesa speciale, vabbè, è buono Non lo so, ditemi voi, qual è la natura? Dove si è scritta la natura? Vivace, com'è? Secondo voi? Fatemelo sapere E mettete un like perché non si trova sempre uno Shiny